mi chiamo bianca maria cavallini sono psicologa del lavoro lavoro con le aziende con le persone mi occupo di collaborazione e competenze trasversali mi definisco una psicologa con i piedi nel digitale perché mi dedico anche al benessere digitale e al rapporto con la tecnologia per questa ragione puoi rivolgerti a me se la tecnologia ti genera stress e se vuoi migliorare il tuo rapporto con le mail gli strumenti digitali e social o sei figli digitali e fatichi a comprendere il loro mondo puoi contattarmi se hai difficoltà a gestire il cambiamento che sia di vita o di lavoro se l'incertezza per il futuro ti genera ansia o se vuoi potenziare alla gestione del tuo tempo e conciliare le tue attività se vuoi capire perché la relazione con i tuoi capi o con i tuoi colleghi non funziona come vorresti ho scelto di collaborare con my work perché ne condivido i valori e perché offre un supporto psicologico a distanza dove vuoi quando vuoi e perché fa della salute psicologica la chiave per stare bene nella vita come nel lavoro in attesa di incontrarti ti saluto a presto